Ciao ragazzi, benvenuti in questo vlog post Monaco-Juventus 0-2, la partita è appena finita e quindi sono qui a raccontarvi i miei pensieri a caldo. Premetto che i ragazzi che hanno azzeccato il contesto sul mio Instagram li saluterò nel video di domani. Parliamo invece della partita di oggi, ragazzi, la Juventus si conferma per l'ennesima volta una squadra veramente dura da affrontare perché è molto molto forte in avanti ma dietro si chiude che è una bellezza, ragazzi, concede veramente poco 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 e questa dimostrazione ha dimostrazione che in una squadra è veramente molto importante la fase difensiva. Lo so che sembra che io stia raccontando aria fritta, però tanti, tanti, anche nel calcio mercato, pensano sempre ad acquistare gli attaccanti superpotenti tralasciando invece l'assetto difensivo che invece, soprattutto in Europa, è molto molto importante. La Juve è riuscita ad andare a Monaco a fare due pappine e a non subire assolutamente neanche un gol e questo in ottica qualificazione, in ottica ritorno è veramente importantissimo. La Juve in avanti oggi è stata veramente super cinica, non ha giocato da Dio oggi, però ha fatto la sua partita, l'ha interpretata bene, è scese in campo molto molto concentrato e qui i meriti vanno assolutamente a Massimiliano Allegri perché l'impatto con la partita è al 100% sempre dal mister, sia che sia in positivo, sia che sia in negativo. La Juve ha fatto la sua partita, ha iniziato molto bene, poi ci sono stati dieci minuti dove il Monaco si è portato in avanti, è stato un po' più pericoloso e poi c'è stato ragazzi il gol di Higuain viziato, no viziato, agevolato da un tacco di Dani Alves, un tacco che io non ho visto fare neanche alla Playstation. Cioè ragazzi è il classico tacco che dici vabbè dai, figurati se ora magari se lo fai la Playstation dicono questo nella realtà non lo fai mai, invece lui l'ha fatto ragazzi, ha fatto un assist veramente bello, poi un Dani Alves che lui è molto emotivo, lui se parte bene riesce a fomentarsi, a fare bene, se invece parte male fa spesso le partite sotto tono. Oggi era super gasato, sicuramente anche grazie al primo assist che è stato veramente bello, bello da vedere e quindi si è galvanizzato per tutta la partita, non a caso il secondo assist l'ha fatto sempre lui, un bellissimo secondo assist, anche qui l'azione è partita grazie a Dybala, se non erro, che ha recuperato una palla molto molto importante, l'ha allargata a Dani Alves, cioè il gol l'avete visto, che ha passato il pallone a Higuain veramente col contagiri, poi Higuain è stato per carità freddissimo a buttarla dentro, ma era veramente una palla che chiedeva semplicemente di essere toccata leggermente per andare in porta e così è stato. Dopo le challenge che ho fatto non posso assolutamente dire, vabbè quel gol l'avrei fatto anche io perché non mi credereste mai e poi mai, però diciamo che per un attaccante era abbastanza semplice fare quel gol, non sto dicendo che Higuain non sia stato bravo, anzi tutt'altro, è stato molto molto cinico a sfruttare le due o tre opportunità che ha avuto, cavolo su tre opportunità fai due gol, sei un campione. Quindi ragazzi è ancora tutto aperto, è ancora tutto aperto semplicemente sia per un discorso scaramantico che per un discorso vero, reale. Vi ricordo che io sono milanista e vi ricordo che io stavo vincendo una finale a fine primo tempo 3-0. Vi dico solo questo per farvi capire che non è nulla, nulla scontato, non è nulla chiuso. Pensate anche a Barcellona che è appunto l'esempio più eclatante negli ultimi mesi, quello che ha fatto col Paris Saint-Germain. Quindi ragazzi, complimenti agli amici giuventini, complimenti alla Juve, so che adesso mi arriveranno tanti di quegli sfotto, ma me li prendo tutti perché è giusto così, è giusto così. Ragazzi oggi sapete come la penso, non ti favo Juve ma non ti favo neanche contro. Però devo ammettere che quando ha segnato Higuain un vai mi è uscito, da milanista mi è uscito. Ora non voglio fare per forza quello super sportivo, però ammetto che mi faccio molto prendere delle partite. Quindi posso anche partire dicendo no, non ti ferò Juventus, però poi quando gioco alla Juve, quando giocano gli italiani in generale, sono molto patriottico in questo senso e quindi cedo, cedo assolutamente al sentimentalismo. Quindi ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa partita. Penso che sia abbastanza d'accordo con me, che la Juve abbia meritato essere riuscita a domare un attacco fortissimo come quello del Monaco. Ancora nulla scritto, è ancora tutto aperto, la qualificazione per Cardiff è sicuramente molto più vicina, ma mi raccomando, non ci si deve cullare mai sugli allori. Per adesso è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Per adesso è tutto e alla prossima, ciao!